Oggi è domenica 27 ottobre, sono le otto e mezza della mattina, qui c'è la Marsa di San Michele dove ogni anno i podisti possono festeggiare camminando per i colli e si parte dall'Arena di Montemegro, poi c'è la festa finale alle 9 con il banchetto e i ringraziamenti qua si passa per la marcia, ci sono vari percorsi, quello lungo, quello medio, quello corto noi faremo una versione corta, ecco è tutto molto controllato, è fatto bene qua i podisti stanno tornando indietro, noi facciamo il percorso al contrario perché mancano 20 minuti alla fine della marcia Costigliola dove adesso qua stiamo incontrando la nostra protezione civile ciao, buon lavoro, ovviamente il punto ristoro è in comitanza della pista ciclabile anche e qui c'è un punto ristoro, ecco qui, ci andiamo a vedere il movimento scout ciao